ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi siamo qui per la decorazione agenda e siamo già alla settimana che va dal 18 al 24 di dicembre quindi siamo la vigilia di natale sarà ovviamente una decorazione natalizia andiamo subito giù in taverna nella mia craft room e andiamo a decorare la settimana buon anno buon anno buon anno buon anno buon anno ma u buon anno Ecco questa è la mia settimana prima di Natale Quindi dal 18 al 24 Ovviamente ho fatto decorazioni natalizie Perché ci siamo Infatti settimana prossima è Natale Il compleanno di mio nipote è quello più grande E niente semplice Niente di particolare Lasciate un bel pollice in su Se il video vi è piaciuto Fatemelo sapere anche nei commenti E vi saluto e ci vediamo al prossimo video Ciao